Arbarello Luigi nasce a Borgaro nel 1860. Si laureò in legge ma coltivava nel mentre gli studi sulla pittura. Poi lasciò la professione e si dedicò alla pittura. Espose nell'anno 1887 a Vienna, a Torino e Bologna. Alla Mostra Generale di Torino nel 1884. Alcune sue opere sono attualmente esposte al Museo Civico di Torino. Tra le sue opere più importanti ci sono Undici Guado, Ultimi Raggi e ritorno all'ovile. Arbarello Luigi si spense a Torino nel 1923.